E velo ragazzi siamo qua in questo nuovo video di Piero Avengers E ho appena interromto le live perché Prima di tutto mi laggava Ragazzi le live ora è molto meno Non è tanto provabile Che le farò Che cavolo è sto cosa 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 mi freghi Mi freghi mi freghi No 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 prendi tutto io non faccio Bitch you bitch Cioè ma che c'è un po' Cioè stai fermo 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 andata non fuori Noi raga, tu con i like e con le condivisioni, raggiungiamo i 30 like, tanto ancora, lo stesso, no, che 30 like sono baci anche, ho gioco un po' svitato, 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 yes, guardate il musco, guardate il musco, guardate il musco, questo è un bug, ragazzi andate sempre, mettetevi l'autocorsa e guardate cosa succede, bellissimo, Allora, costruzione e utilità migliore, 29000, nice, Giuseppe, una squad, una squad, una squad, una squad, la sent Che! Le trattaım, andate, las sape, asfadetare mes berri, attre mescuna, Quattro susugolo che scava Questa missione l'avevo iniziata in live Però ho notato che non c'era nessuno in live Perché stavate sicuramente facendo i compiti o mangiando Quindi ho deciso faccio il video così almeno Il tempo si carica Si fa uscirà Tra le 3-5 orette Ragazzi vi ricordo iscrivetevi, condividete e commentate questo video Ora andremo su Battle Royale Sì un pochino a cavolare Schifo ancora Non ho visto come la Battle Cioè sì sono entrato però Non ho visto il tutto com'era Non ho visto il mio evento Mi sento Apriamo stile E' un po' secco Mostravi l'occhio nitro La c'è bravo ancora più scopo Mamma mia, chi volta... Flubb.. Appro JP Lasamo... Questa cosa più brutale... ho fatto una schiena spettacolo ho fatto una schiena spettacolo ho fatto una schiena spettacolo davvero non è giusto ho fatto un progetto l'olio stava fosse potenziamolo il personaggio se abbiamo le spin è vero dai ragazzi 50% lo sconto di salve il mondo meglio del 25% vi consiglio di prenderlo ora che c'è lo sconto del 50% prendetelo eccolo come salve il mondo è impossibile invitiamo a salve invita ok è impossibile è impossibile questo è lo shop ragazzi questo me lo prendo fighissimo no sapete anzi è figo si però c'è una nuova modalità no no raga fino a stamattina c'è una nuova modalità che sta cosa c'è una nuova modalità c'è una nuova modalità c'è una nuova modalità piero no no c'è un punto mettete il bull trooper cosa è andato male cosa ma che dici che dici aspettate Aspettate ragazzi, guardiamo, scusate, guardiamo, facciamolo in singola voi stacchiamo, sennò il video esce troppo lungo, what the fuck, what the fuck, dove voglio vedere su, no chi è con il video? Aspettate, no, oggi ho qua, ma non mi... Eh, che cavolo, no, no, oh, perché non mi parte? Va bene ragazzi